bene, buonasera a tutti, vedo che siete già tanti e mi fa molto piacere eccoci qui, ci siamo anche su facebook, stasera dovremmo esserci sia su facebook che su instagram cerco di posizionare bene il telefono così mi vedete bene stasera parleremo di Italia e della mia amata Puglia con molto piacere spero di vedervi numerosi e di poter condividere con voi tante notizie, tante informazioni tante anche novità relative alle vacanze in Italia per quest'estate allora vediamo un po' se siamo in diretta bene, allora io man mano che arrivate vi vedo e se avete anche delle domande da fare scrivete pure in chat che vi leggo in diretta così riusciamo a scambiarci un po' di domande e risposte tutte le vostre curiosità, tutte le vostre informazioni relative alle vacanze in Italia insomma cerchiamo di soddisfare tutte le vostre curiosità e soprattutto cerchiamo di dare qualche informazione aggiornata per tutto quel che riguarda la prossima estate allora di solito la prima cosa che ci si chiede è cercare di capire qual è la costa migliore, la spiaggia migliore, la zona migliore soprattutto per chi non è mai stato in Puglia, per chi magari ci va per la prima volta o per chi ne ha solo sentito parlare magari si affida un po' a quelle che sono le informazioni di chi già c'è stato o magari ne legge un po' anche online però magari rimane un po' di confusione relativamente a quelle che possono essere le informazioni più importanti relative appunto alle zone, relative alle coste, relative alle spiagge e relative al mare e quindi di solito le cose che ci vengono chieste di più sono proprio legate a dove è il mare più bello, dove sono le spiagge più belle qual è il mare più adatto magari per chi ha i bambini qual è il mare più adatto magari per chi invece non so cerca le spiagge tutte di sabbia o per chi magari cerca invece le scogliere eccetera eccetera e quindi a me piacerebbe partire magari chiacchierando con voi di quelle che sono le varie zone e quindi di come andare a scegliere a seconda delle esigenze personali a seconda dei gusti a seconda delle aspettative per la vostra vacanza allora c'è da dire che la parte più alta della Puglia e cioè la parte più a nord intanto saluto buonasera a tutti quelli che stanno entrando ora ben arrivati la parte più a nord è sicuramente la parte forse meno gettonata per chi cerca una vacanza mare una vacanza fatta di sole e spiagge e cioè il promontorio del Gargano perché il promontorio del Gargano è fatto di di alte scogliere è fatto di natura a tratti incontaminata piccoli borghi e anche bellissime spiagge ma in linea generale di piccole baie tranne rare eccezioni come la bellissima spiaggia di Vieste che è sicuramente una delle località più conosciute del Gargano a livello di località baldeari sicuramente tutte le altre località presentano delle insenature delle piccole baie con il mare digradante quindi assolutamente adatto anche a chi ha i bambini piccoli ma l'idea di lunghe spiagge e magari di sabbia chiara eccetera per certi versi forse il Gargano può non essere indicato per chi ha una visione di questo tipo in verità per chi scopre il Gargano per chi non c'è mai stato a mio parere può riservare delle bellissime sorprese uno perché è una parte della Puglia che consente di abbinare a una vacanza mare anche delle bellissime escursioni all'interno proprio del Parco del Gargano e di tutta quella che è la foresta Umbra per gli amanti del trekking delle passeggiate anche dei giri in bici e quindi è possibile magari rendere anche la vacanza più dinamica scegliendo magari delle giornate da trascorrere in totale relax al mare e delle giornate magari da trascorrere un po' un po' più dinamiche diciamo così un po' in giro bene dal Gargano come mi suggerisce Agnese benvenuta è possibile tra l'altro anche traghettare per andare a visitare le Tremiti le Tremiti sono questo arcipelago di piccole e rocciose isole a largo della Puglia un paradiso sicuramente adatto a chi cerca una vacanza mare ma non solo una vacanza a diretto contatto con la natura una vacanza anche molto lenta diciamo così è un po' dedicata un po' anche ai silenzi perché le Tremiti sono sicuramente conosciute sono sicuramente turistiche e come tutta la Puglia sono prese d'assalto d'estate ma rimangono comunque un piccolo angolino di tranquillità un piccolo angolino di diciamo così di di relax per chi magari non ama le località più affollate più famose quelle più più gettonate anche dalla 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 movida ok per cui vi dicevo partendo da il Gargano Alto tutta la zona dei laghi di Lesina che sono tra l'altro una zona poco conosciuta dal punto di vista turistico ma molto conosciuta da chiama la fotografia perché tutta la zona lì un po' umida regala a mio parere dei paesaggi estremamente particolari e dal punto di vista proprio del colpo d'occhio fotografico anche unici il primo paese che si incontra è il Rodi Garganico e poi è seguire i peschi Civieste e quindi diciamo che la costa da piuttosto frastagliata e piuttosto alta a tratti diventa un po' più dolce nella baia di Vieste la Vieste ha una bellissima baia sabbiosa infatti è molto conosciuta da chi sceglie le vacanze in Gargano soprattutto con i bambini offre tantissime strutture ricettive per tutti i gusti e io dico anche per tutte le tasche per cui ci sono dei resort particolarmente organizzati e particolarmente adatti a chi magari vuole la comodità ci sono degli hotel più piccoli più raccolti magari posizionati anche un po' più nell'entroterra così come ci sono appartamenti residence dance camping eccetera continuando lungo la costa la costa diventa estremamente alta estremamente frastagliata ed è questa la bellezza della costa del Gargano che può essere scoperta meglio e forse con un impatto visivo ancora più forte se si sceglie di fare delle escursioni in barca perché tutta la zona del Gargano da Vieste andando verso Mattinata e quindi andando poi verso la fine del promontorio verso il golfo di Manfredonia è una costa fatta di tantissimi anfratti grotte anfratti scogliere le famose scogliere bianche fotografate da tutti e che si trovano nelle foto di tutti i cataloghi obiettivamente sono estremamente affascinanti e viste dal mare diventano secondo me uno spettacolo uno spettacolo particolarmente piacevole la costa si abbassa di nuovo quando si arriva a Manfredonia come dicevo e lì diciamo comincia una parte di costa pugliese piuttosto bassa piuttosto sabbiosa piuttosto amabile per chi cerca un soggiorno mare in tutto relax allora benvenuti intanto tutti quelli che mi stanno seguendo Marilena benvenuta ci chiede una famiglia di 4 persone ho già visto Brindisi ma vorrei vedere sulla costa ionica la zona più bella due ragazzi di 11 e 15 anni andrebbe bene sia un appartamento che una formula residence bene Marilena allora relativamente alla zona di Brindisi dobbiamo scendere un po' più giù di questa zona di cui ti sto parlando io quindi dobbiamo arrivare nella parte centrale della Puglia per capirci quindi superare il golfo di Manfredonia superare la provincia di Bari e località assolutamente note come Polignano Monopoli che regalano tratti di costa piuttosto variegati sabbia scoglio Polignano è famosissima perché è proprio su una rupe su uno scoglio picco sul mare per arrivare appunto nella provincia di Brindisi dove la costa diventa più bassa più dolce assolutamente adatta a una vacanza mare sia in appartamento sia in residence e lì voglio dire c'è l'imbarazzo della scelta perché Marilena può andare a cercare delle soluzioni che sono nella zona di Ostuni quindi in tutto il litorale in tutta la marina di Ostuni e ci sono tantissime località dove ti possiamo proporre delle ottime soluzioni Carovigno Specchiolla c'è tutta la parte dell'oasi di Torre Guaceto che è un'oasi protetta e anche lì diciamo un paradiso per chi ama fare le foto scendendo più giù fino diciamo così ad arrivare al confine poi con quello che è sicuramente la parte di Puglia più conosciuta che è il Salento dall'altra parte come mi chiede Marilena cioè dal lato ionico ragionando su una Puglia centrale c'è tutto il litorale Tarantino che a mio parere è un litorale estremamente bello forse poco conosciuto meno conosciuto di tutta la costa leccese che rimane nell'immaginario la parte di Puglia più bella ma a mio parere il Tarantino regala degli scorci unici perché tutta la costa sotto Taranto è una costa anche lì che alterna spiagge di sabbia bianchissima sicuramente avrete sentito parlare di Marina di Puzzano di Lido Silvana a tratti di costa diciamo così mista sabbia e scoglio fino ad arrivare alle famose dune di Campomarino di Marugio che secondo me rappresentano il non plus ultra della costa Tarantina naturalisticamente parlando è un tratto di costa meraviglioso proprio perché ci sono delle dune di sabbia tra l'altro la litoranea proprio passa in mezzo a queste dune di sabbia per cui è possibile fermarsi dovunque e dovunque tra l'altro esistono dei posti dei parcheggi lungo la strada attrezzati che consentono di percorrere delle piattaforme di legno e fermarsi in qualunque punto della costa si vuole perché la bellezza della costa Tarantina è proprio questa che accanto a spiagge attrezzate ci sono chilometri e chilometri e chilometri di spiagge libere di spiagge tra l'altro sicuramente affollate d'estate ma non prese d'assalto come come le località più note chiaramente scendendo giù è inutile che ve lo dico andando superando Campomarino di Maruggio superando San Pietro in Bevagna superando Torre Lapillo che già diventa come dire una località che fa illuminare gli occhi di chi ama la sabbia bianca il mare cristallino arriviamo appunto a Prosciutto che sicuramente è nell'immaginario il posto diciamo così di cui ci si ricorda la sabbia di un bianco accecante e il mare Maldiviano e finisce la provincia di Taranto perché comincia la provincia di Lecce con Porto Cesareo che regala comunque tratti di costa estremamente belli oltre paesagisticamente molto particolari sia per quel che riguarda la costa io dico e sia per quel che riguarda l'entroterra perché a mio parere in Puglia una vacanza mare e una vacanza abbinata alla scoperta del territorio cioè abbinata a quello che offre l'entroterra non è assolutamente da scartare perché l'entroterra diciamo così tra la provincia di Bari e la provincia di Brindisi è notoriamente conosciuta come la Valle d'Itria costellata dei famosi trulli pugliesi unici unici ce li abbiamo solo in Puglia e vabbè il picco è ad Alberobello che ormai è patrimonio dell'UNESCO per cui è immancabile una tappa ad Alberobello ma secondo me è immancabile una tappa in tanti piccoli borghi intorno ad Alberobello che fanno la fortuna di Alberobello ma che regalano scorci altrettanto interessanti quindi vi consiglio una tappa a Locorotondo vi consiglio una tappa nella stessa Ostuni che è un borgo molto bello arroccato e panoramico nel senso che è su una collina che guarda tutta la marina di Ostuni vi consiglio una tappa a Cisternino sono dei borghi magari meno conosciuti ma piacevoli dove magari poter assaggiare anche delle specialità del luogo perché non dimentichiamo che in Puglia si mangia e si beve benissimo benvenuta Graziella benvenuta Alessia benvenuta Andrea grazie ciao Federica ciao a tutti benvenuti mi fa molto piacere vedervi qui dico un attimo a Marilena a cui stavo consigliando i vari tratti di costa dopo lascerò tutti i miei recapiti la mail il numero di telefono quindi Marilena se ti fa piacere puoi scrivermi e magari in un momento un po' più tranquillo via mail ti posso inviare delle proposte dedicate alle tue esigenze costruite su misura per la tua famiglia ok spero di averti risposto intanto bene ciao ciao a tutti mi fa piacere mi fa piacere vedervi e c'è qualcuno che apprezza a quanto pare la tavola e la carne di Cisternino bene beh io devo dire che della Puglia ricordo a livello di palato la focaccia che è qualcosa secondo me che non c'è non c'è non c'è uguale da nessuna parte le pucce come le chiamano perché poi anche lì c'è questo c'è questo provincialismo e chi le chiama focaccia e chi le chiama pucce e chi le fa con le olive e chi le fa col pomodoro a me piacciono tutte come si chiamano e come sono sono mi piacciono tutte chiaramente accompagnate da un buon vino pugliese perché anche quello devo dire che ci sta bene l'entroterra Tarantino continuando per diciamo così completare la descrizione che faceva Marilena della costa Tarantina è sicuramente una chicca perché l'entroterra Tarantino è l'entroterra di Manduria e l'entroterra di posti insomma al di là di eccellenze enogastronomiche ma eccellenze di borghe io percorrendo la prima volta la statale che da Tarantino mi portava giù verso Marina di Pulsano ricordo di essermi fermata in un posto che non avevo mai sentito non avevo mai visto non avevo mai letto su una guida ma era semplicemente indicato con un cartello stradale ed era Massafra e ho scoperto un borgo bellissimo bianco accecante come sono tutti i borghi pugliesi e sconosciuto e più in grado di offrire anche lì scorci sia fotografici ma anche semplicemente di pace interiore la chiamo io perché secondo me quando ci si interfaccia con qualcosa di estremamente bello ne può giovare tutta la persona quindi anche semplicemente sedersi in una piazza in un centro storico di un piccolo borgo può regalare secondo me tanta serenità e tanta felicità detto ciò scendendo da Massafra appunto troviamo il Lizzano inutile dire andate a visitare la cantina di Lizzano perché offre del vino strepitoso Manduria e continuando nell'entroterra c'è poi tutto l'entroterra perché la marina di Campomarino di Marugio c'ha Marugio paese San Pietro in Bevagna la marina c'ha il paese da lì poi comincia un tratto di costa che può rimanere particolarmente nella vostra memoria se lo non so come il termine giusto quale può essere se lo mappate ecco mi è venuto con le torri allora Andrea ci dice che vabbè ci indica delle delizie della cucina per cui le fritture io ricordo di aver mangiato delle cozze fritte nel Tarantino che erano fuori da ogni regola i ricci sì e ci sono tanti ristoranti assolutamente sì ma anche ristoranti alla buona secondo me dove magari si possono gustare i sapori quelli più autentici ok dicevo possiamo mappare il tratto di costa da più o meno da Campomarino di Maruggio apro una parentesi Campomarino di Maruggio ha un tratto di costa particolarissimo in cui sfocia un fiume e questo tratto di costa particolarmente noto ai Tarantini perché le acque sono il fiume entra nel mare e lì le acque sono particolarmente fredde e infatti mi ricordo la prima volta che ci sono andata era pieno di turismo locale proprio perché lì vanno per quest'acqua particolarmente limpida e particolarmente fresca ok da Campomarino in giù cominciano le torri quindi possiamo mappare la costa scendendo riconoscendo Torre Ovo riconoscendo Torre Lapillo riconoscendo superando Porto Cesario Torre in Serraglio superiamo qualcosa di inimmaginabile e di inimmaginabilmente meraviglioso che è il parco di Porto Selvaggio per arrivare a Gallipoli e per continuare con il litorale delle torri perché poi sotto Gallipoli c'è Torre San Giovanni c'è Torre Pali Torre Mozza ora diciamo l'ordine preciso lo possiamo vedere su una cartina ma sono torri normanne diroccate chiaramente ma che sono diventate per i turisti dei punti di riferimento oggi Torre Lapillo ha la sua torre è famosa per le spiagge ma ha la sua torre e la stessa Torre Ovo che è appena sotto Campomarino di Marugio è un paesino sul litorale Tarantino ma ha la sua torre per cui se volete un po' mappare il territorio potete riconoscerlo dalle varie località da queste torri normanne e le dune le dune di Campomarino eh sì le ho nominate prima Andrea sì 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 senza parole quando ho visto le dune la macchia mediterranea che cresce su quelle dune e la bellezza di della costa pugliese devo dire che sono sono rimasta particolarmente colpita allora io non vi vedo più non so se è un problema mio o un problema della connessione se mi date un attimo un feedback se riuscite voi ancora a vedermi quindi è soltanto un problema legato alla connessione alla mia connessione riuscite sempre a vedermi o sono scomparsa io vedo ok mi vedete mi vedete ok allora magari è solo un problema è solo un problema della mia connessione perfetto va bene non è un problema perché mi è scomparso il video però volevo capire perfetto continuo dubbi domande marilena non la vedo più spero di aver risposto ti ho detto un sacco di cose però mi fa piacere ti lascio qui anche i miei recapiti intanto laura.lombardi chiocciola evolutiontravel.email questa è la mia mail e il telefonico quindi marilena se domani vuoi contattare uno qualunque dei consulenti di viaggio evolutiontravel per avere maggiore informazione e magari una proposta su misura per te e per la tua famiglia ben volentieri devo dire che quest'anno un po' per la situazione che stiamo vivendo inutile negarlo un po' perché probabilmente le vacanze in Italia saranno come dire il non plus ultra e io ne sono estremamente felice devo dire vivendo a sud abbiamo fatto appassionare tantissime persone che negli anni avevano sempre un po' lasciato da parte l'idea di poter aiutare famiglie coppie gruppi di amici che volevano andare in vacanza nel sud Italia o insomma in qualunque posto che abbia sicuro che abbia delle spiagge fruibili e per cui quest'anno sono veramente felice di potervi dire che ci sono tantissimi consulenti insieme a me che stanno che si stanno specializzando che stanno studiando le località che stanno studiando le strutture e che sono in grado effettivamente di aiutarvi non solo a trovare la soluzione adatta alle vostre esigenze ma a darvi proprio dei consigli su come impegnare la vostra settimana i vostri giorni di vacanza al meglio patrizia mi chiede benvenuta a santa maria di leuca ci sono spiagge o rocce percorsi naturalistica far insieme alla famiglia allora rispondo a tutti intanto grazie per i feedback ragazzi grazie io mi vedo in questo momento solo nel video di instagram ma va bene così allora santa maria di leuca questa è una bella domanda patrizia perché nel momento in cui comincia la costa leccese anche lì in verità c'è l'idea di spiagge 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 in verità la provincia leccese la costa leccese è molto varia perché c'è un primo tratto di costa conosciuta come la marina leccese e quindi le spiagge di san foca di san cataldo che sono sabbiose fino ad arrivare a Otranto che sicuramente Otranto torre dell'orso che sono sicuramente località di cui avrete sentito parlare e che hanno delle spiagge famosissime sotto torre dell'orso comincia un tratto di costa che va più o meno da santa cesarea termi castro fino a santa maria di leuca che è un tratto di costa meraviglioso alto scoglioso con delle scogliere bellissime che appunto si conclude andando verso la punta della Puglia in santa maria di leuca santa maria di leuca paese che a mio parere va vista perché al di là di quello che può rappresentare cioè il punto d'incontro di due mari il punto finale di un paese il punto finale di una penisola nel nostro immaginario diamoci un valore ok come dire una porta verso l'oriente una porta verso il mare e quindi è un posto che secondo me è un'energia pazzesca è un posto che ha una bellissima marina una bellissima baia di sabbia ma la diciamo così la costa intorno a santa maria di leuca è variegata cioè c'è un po' di roccia e c'è un po' di sabbia nel paese c'è una bella baia di sabbia quindi fruibile da chiunque in più nella nella zona di santa maria di leuca come nel gargano di cui vi parlavo all'inizio la terra è vuota sotto questa cosa qui poi ci ritorniamo un attimo nel senso che ci sono lì tantissime grotte tantissimi anfratti assolutamente da visitare via mare e mi ricollego alla domanda di alessia ti ringrazio per la domanda percorsi naturalistici da fare con le famiglie possono essere dei percorsi in barca alla scoperta di quelle più famose che sono le grotte della tinsulusa che sono proprio lì intorno a santa maria di leuca o di tantissime piccole grotte piccole spiaggette raggiungibili solo via mare nel momento in cui si entra nella provincia di lecce siamo in quello che è ufficialmente noto come salento anche se oggi diciamo quando si parla di salento si parla di una provincia un po' più allargata però in verità per essere precisi il salento è la provincia di lecce per cui tutti quei percorsi naturalistici che puoi fare Alessia sulla costa o in barca puoi abbinarli a tantissimi percorsi naturalistici da fare nell'interno perché perché la bellezza del salento è le sue strade e quindi queste provinciali che si infilano negli uliveti a perdita d'occhio i suoi borghi sconosciuti ai più ma meravigliosi mi viene in mente specchia mi viene in mente i corsi dove si lavora la pietra la famosa pietra bianca leccese mi viene in mente Galatina che secondo me il non plus ultra Galatina è l'eccellenza del barocco è un borgo che vale la pena visitare e volendo si possono percorrere in macchina oppure se si ha voglia magari dipende da dove si soggiorna si possono fare anche dei tratti in bicicletta ci sono tantissimi ormai percorsi che sono adatti a chi ama girare in bici spero di aver risposto anche a te bene mi chiede Alessandro leggevo se ci sono anche delle domande su Instagram mi sembra di no ma se ci sono sono qui e vi 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 ascolto più che vi ascolto vi leggo mi chiede Alessandro benvenuto anche a te è meglio il Gargano o il Salento con due bambini piccoli uno di un anno e uno di tre piccoli piccolissimi direi uno infante e un bambino allora Alessandro possono andare bene entrambe le zone secondo me tutto dipende da come tu intendi la tua vacanza cioè se preferisci l'idea di un soggiorno mare di una struttura direttamente sul mare di qualcosa di tranquillo da cui magari poter uscire a piedi per visitare il paesino o poter uscire qualche volta per visitare delle spiagge circostanti trovi qualcosa di adatto nella zona di Vieste come dicevo all'inizio o trovi tranquillamente qualcosa di adatto un po' più giù scendi verso la provincia di Brindisi quindi sotto la provincia di Bari all'altezza della Marina di Ostuni e trovi tantissime strutture con delle spiagge facilmente accessibili assolutamente adatte a famiglie con bambini piccoli quindi magari se hai bisogno di determinate attrezzature può essere una biberoneria può essere una nursery vanno benissimo fino poi ad arrivare al confine con la provincia di Lecce dove praticamente tutta costa che si alterna scoglio basso e sabbia ok chiaramente con bambini così piccoli forse per te è sconsigliato il tratto di costa che va appunto da Santa Cesarea Terme fino a più o meno Santa Maria di Leuca perché la costa è più alta e più scogliosa e puoi ritrovare puoi ritrovare quindi superi la punta superiamo il tacco diciamo così la punta del tacco e andiamo verso quella che è la più famosa in assoluto della zona delle zone del Salento che sono le Maldive del Salento quindi superiamo Santa Maria di Leuca superiamo un tratto di costa ancora un po' frastagliato ancora un po' roccioso mi viene in mente Marina di Mancaversa ma sono veramente ricordi di vacanze da ventenni per arrivare nella nella zona di appunto di Marina di Ugento Torre Mozza Torre San Giovanni dove trovi chilometri e chilometri di costa sabbiosa e tantissime strutture estremamente estremamente attrezzate per chi cerca una vacanza in famiglia le Maldive del Salento e quindi tutta la zona delle torri diciamo così finisce in quella che è la baia più famosa di Gallipoli che è Baia Verde anche lì sicuramente d'estate molto affollata molto richiesta anzi direi il non plus ultra per chi vuole anche la Movida e volendo per chi come te cerca magari dei posti un po' più tranquilli puoi superare tutta la costa di Gallipoli e andare oltre subito dopo Gallipoli la costa diventa un po' più un po' più rocciosa e puoi arrivare nella zona di Porto Cesareo tutto dipende da come si è abituato a trascorrere le tue vacanze solo mare o mare e escursioni di solito cosa scegli come struttura ricettiva ti piace qualcosa di estremamente organizzato c'è ti piace qualcosa di più semplice c'è preferisci l'appartamento o il residence perché vuoi essere più libero e non vuoi magari orari da ristorante eccetera c'è e quindi poi chiaramente tutto dipende da quale può essere il tuo diciamo così tetto massimo di spesa da valutare in base a quelle che sono le proposte che ti verranno fatte anche a te ti consiglio scrivici pure mandaci una mail chiamami cerchiamo di trovare la soluzione adatta alla tua famiglia e magari puoi valutare anche una soluzione nella Puglia più alta e una soluzione nella Puglia nella Puglia più bassa e magari sceglierai in base a quella che ti colpisce di più o in base a quella che è più vicina alle tue esigenze di vacanza ok prego Patrizia ci mancherebbe grazie per le informazioni è è un vero piacere spesso spesso ci viene chiesto appunto qual è la la zona magari più adatta per chi cerca una vacanza movimentata per chi cerca una vacanza con gruppi di amici perché magari vuole un po' di movida serale un po' di movida notturna beh sicuramente tutto il litorale di Gallipoli è famoso per la vita notturna devo dire che piano piano anche tutto il il litorale di 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 Ostuni salendo su fino a sconfinare nella provincia di Bari quindi tutta la zona di Monopoli e di Polignano sta diventando molto attrezzata e molto conosciuta anche da chi cerca delle vacanze un po' più un po' più movimentate e un'altra domanda che spesso ci viene rivolta magari da chi se c'è qualcuno di voi che deve fare molti chilometri per arrivare in Puglia cosa ci consigliate arrivare in macchina arrivare in aereo arrivare in treno quale può essere la soluzione migliore anche qui dipende perché sicuramente avere essere automuniti vi consente di essere estremamente liberi e di poter appunto spaziare da giorni di totale relax e ozio al mare a giorni in cui ce ne andiamo alla scoperta di un'entroterra fatto di colori come dire variegati dal rosso della terra al verde degli oliveti al bianco dei borghi ok ma è chiaro che se devo partire dal nord Italia arrivare in Puglia è un bel viaggio è lungo e magari se ho solo sette giorni di vacanza può essere effettivamente un viaggio impegnativo allora gli aeroporti sono due ben collegati ormai con tutto il resto dell'Italia sono Bari e Brindisi molte strutture soprattutto quelle più organizzate mettono a disposizione anche dei servizi di trasferimento dall'aeroporto alla struttura e viceversa e se invece volete essere un po' più liberi può essere assolutamente consigliato da parte mia un olegio auto o potete anche scegliere di arrivare in struttura e ripartire con il trasferimento organizzato perché magari è particolarmente comodo e magari scegliere di noleggiare l'auto durante la vostra vacanza e di fare due o tre giorni in giro in libertà su queste famose provinciali e complanari pugliesi che vi portano alla scoperta di un territorio affascinante e a mio parere che può regalare anche molte sorprese tenete conto che in altissima stagione i voli aerei e questo non dico nulla di di nuovo Italia per Italia possono essere anche molto cari quindi pensateci per tempo decidete con un po' di anticipo date destinazione località struttura in modo tale da potervi poi creare su misura per voi un pacchetto che abbia appunto dei costi contenuti ma spesso i costi sono particolarmente importanti se al soggiorno si aggiunge un volo e un trasferimento ok per cui adesso insomma per fortuna si parla di 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 apertura si parla di situazioni che piano piano si stanno risolvendo e noi ne siamo ben felici si parla di località che chiaramente ancora non con date precise ma con grande ottimismo saranno pronte nei prossimi mesi e la cosa secondo me forse che può darvi una maggiore serenità una maggiore tranquillità è sapere che proprio perché la situazione rimane ancora abbastanza tra virgolette indecisa ci sono tanti punti interrogativi molti operatori del settore anche noi tantissime strutture alberghiere consentono di effettuare delle prenotazioni e di poter cancellare anche sottodata parliamo anche a una settimana dalla data di partenza senza nessun tipo di penale e con la possibilità di poter avere il rimborso di quanto investito per la propria vacanza quindi secondo me a mio parere queste sono delle delle situazioni incentivanti che possono cominciare a far pensare in positivo senza nulla togliere al fatto che determinate certezze le avremo io con voi strada facendo ma se il mercato si sta muovendo se le attività stanno ripartendo se noi che ci proponiamo online tramite le nostre offerte tramite i nostri portali tramite le nostre finestre di visibilità anche su facebook e riceviamo tantissima tantissima tantissimi riscontri scusate tantissimi feedback da parte vostra e perché c'è tanta voglia c'è tanta voglia di partire c'è tanta voglia di ritornare a una normalità c'è tanta voglia di pensare che l'estate sarà bella sarà soleggiata sarà spensierata io lo auguro a me lo auguro a tutti ripeto con nessuna certezza perché non ce l'ho io non ce l'ha nessuno ma se tante tante finestre piano piano si stanno aprendo con i giusti tempi con i tempi che devono essere e perché probabilmente stiamo andando nella direzione giusta quindi questi due mesi circa di clausura e di sacrificio da parte nostra probabilmente ci regaleranno una bella estate apro una piccola parentesi perché forse questo può aiutare anche Alessandro che mi aveva chiesto prima ciao Andrea benvenuto grazie grazie può aiutare magari la scelta è bene sapere come dappertutto non perché noi siamo strani o perché ci piace come dire affondare il coltello nella piaga ma quando ci sono delle località delle mete particolarmente richieste più richieste di altre è chiaro che quelle mete magari diventano più ambite e economicamente più costose quindi sicuramente il Gargano oggi offre delle soluzioni a mio parere rapporto qualità prezzo migliori rispetto a tutto il resto della Puglia nel senso che dalla possibilità di scegliere a seconda delle proprie esigenze come dire soluzioni di medio livello soluzioni di buon livello soluzioni di altissimo livello e quindi di ragionare in base a quello che ciascuno di noi può investire per la propria vacanza più scendiamo quindi più ci allontaniamo dal Gargano andiamo verso la provincia di Bari andiamo verso la provincia di Brindisi e scendiamo nel Salento più chiaramente la richiesta aumenta e più i prezzi salgono qualcuno dice ma perché ci sono cose più belle perché ripeto questo è relativo perché ci sono cose a mio parere bellissime ovunque tutto dipende da cosa cerchiamo noi cosa piace a noi ci sono degli scorci delle spiagge delle spiagge assolutamente sconosciute da cui ci si può arrivare semplicemente parcheggiando in alto sulla scogliera e scendendo a piedi lungo sentieri sterrati a mattinata sul Gargano io ci sono piuttosto vicina in un'ora arrivo arrivo a mattinata e mi fermo dove mi capita mi piace questo posto qui parcheggio mi trovo la mia discesa facendo attenzione a non rotolare giù e mi trovo in spiagge assolutamente deserte bianche con un mare turchese e magari quello è quello che piace a me ok e può essere per me il non plus ultra per la mia vacanza poi magari ci sono delle persone che amano una situazione più comoda una spiaggia accessibile facilmente magari una spiaggia attrezzata magari una struttura dove alloggiare che è sulla spiaggia o comunque nelle vicinanze della spiaggia e allora magari ci sono dei servizi che chiaramente hanno un costo maggiore e questo insomma mi sembra piuttosto scontato ma è bene sottolinearlo ok ecco perché certe volte ci sono delle differenze di prezzo anche notevoli da tratti di costa a tratti di costa perché certe volte anche semplicemente il nome di una località l'essere famoso no mi viene in mente Gallipoli ma negli ultimi anni è diventato famosissimo Polignano a mare che è su e nella provincia di Bari non ha delle coste particolarmente affascinanti dal punto di vista delle spiagge perché tutte le coste intorno a Polignano sono di roccia ci sono piccole baie come la stessa spiaggia all'interno del paese di Polignano è un fiordo lungo e stretto d'estate chiaramente è un carnaio se ci andate fuori stagione è un colpo d'occhio esagerato e anche lì chiaramente Polignano è bella e valla a visitare e il mare è bello e la costa è bella e ci sono delle belle strutture eccetera eccetera sta diventando un posto che come dire fa alzare anche l'asticella dei prezzi ok vi dirò ci sono tantissime soluzioni per chi ama magari più tranquillità per chi ama la privacy per chi ama l'idea di luoghi poco affollati ci sono tantissime soluzioni non direttamente sul mare ma altrettanto affascinanti parliamo di soluzioni che possono essere resident o possono essere resort anche distanti uno o due chilometri dal mare ma assolutamente attrezzati con servizio navetta con ristorante in spiaggia quindi parliamo di soluzioni che non tolgono a mio parere il comfort alla vacanza ma che magari regalano degli scorci diversi così come accanto a strutture mega organizzate e super gettonate si può scegliere l'idea di una vacanza in una masseria si può scegliere l'idea di una vacanza in un posto dove regna il silenzio dove magari la fa da padrona semplicemente come dire il suono delle scicale d'estate sono scelte cose più bello io non so dirvi cose più bello posso dirvi quello che piace a me ma non è la vostra vacanza ok? quello che mi fa piacere mi preme dirvi è che tutto c'è qualunque cosa si può scegliere l'importante è capire cosa per voi non deve mancare in quella settimana o in quelle due settimane o in quei dieci giorni di vacanza ok? ci sono situazioni e soluzioni più vicine al mare non sono tantissime perché? perché molta costa è stata effettivamente negli anni forse anche un po' massacrata e si è costruito in maniera a volte anche poco consona senza tener conto di barriere naturalistiche parchi protetti eccetera eccetera per fortuna la mia generazione sta vivendo una nuova consapevolezza relativamente a queste cose io ne sono molto felice per cui tanti tratti di costa che magari la prima volta che li ho visti da bambina negli anni 80 sembravano fuori da ogni controllo oggi mi viene in mente appunto l'oasi di Torre Guaceto piuttosto che il il parco nazionale del Gargano piuttosto che il parco di Porto Selvaggio sono quei punti quei tratti di costa che sono assolutamente salvaguardati da qualunque tipo di abusivismo da qualunque tipo di violenza per fortuna e quindi oggi possiamo godere se siamo a Ostuni di questo di questo tratto di costa dove perdersi tra piccole lagune piccoli laghi e dove gli appassionati di uccelli vanno a fare bird watching all'interno dell'oasi di Torre Guaceto e così invece se si sta dall'altra parte quindi se siamo più o meno all'altezza di Gallipoli o un po' più su se siamo nella zona di Sant'Isidoro di Torre in Serraglio dedicare una giornata a una passeggiata all'interno di questa pineta infinita che è il parco di Porto Selvaggio e che diciamo così regala dopo una passeggiata in discesa all'andata ma ricordatevi che al ritorno è in salita sono tre chilometri di pineta che regala poi uno scorcio sul mare senza come dire che lascia senza fiato e che vale la fatica secondo me quindi non tutte le strutture sono direttamente sul mare per direttamente sul mare di solito si intende nelle immediate vicinanze quindi senza un attraversamento stradale senza la necessità di dover prendere una navetta senza la necessità di dover attraversare una pineta ma a mio parere i tratti di costa più affascinanti sono invece questi sono quelli dove una struttura è separata dalla costa da una piccola pineta saranno tre o quattrocento metri da fare a piedi o una struttura è separata dalla costa da una zona umida o dalle dune di sabbia perché regalano dei momenti anche di contatto diretto con la natura che a volte come dire ne perdiamo un po' l'importanza ne perdiamo un po' la priorità Andrea ci dice ci sono anche soluzioni per amanti del golfo assolutamente sì a Torre Guaceto ci sono un sacco di cale deserte che con mare calmo sembra di essere caraibi esatto e proprio perché essendo una zona protetta dove non non si è costruito nulla è come camminare veramente in un posto fuori dalla modernità esatto e quello che diceva Andrea è giusto perché se poi la vostra vacanza è qualcosa di estremamente dinamico cioè vi piace l'idea di trascorrere delle giornate al mare quindi delle giornate in ozio da abbinare però magari a delle passioni che può essere appunto giocare a golf che può essere fare kite che può essere andare in bici o fare sport di mare per cui bella windsurf pesca eccetera eccetera ce n'è veramente per tutti i gusti oggi scegliere la Puglia come meta per le vacanze a mio parere può accontentare qualunque tipo di viaggiatore anche quello ecco più attento alla necessità di conciliare la vacanza con i propri hobby perché magari durante l'estate c'è la possibilità di coltivarli o magari il viaggiatore invece è più attento alla parte naturalistica di un posto che va a visitare quindi magari è alla ricerca appunto di oasi è alla ricerca di posti dove fare delle belle foto è alla ricerca di posti dove perdersi nella natura e nel silenzio dove poter fare magari delle passeggiate quindi non necessariamente fare dello sport ecco questo intendevo bene bene mi fa piacere che siete siete così attivi e abbiamo trascorso questa orretta insieme ne sono veramente felice io spero di aver risposto un po' a tutte le vostre domande non so se avete delle altre curiosità da chiedermi io ho cercato di spaziare tra vari argomenti che che c'eravamo prefissi di toccare quindi quali sono le zone più belle e quali sono le coste più belle quali possono essere quelle più adatte alle famiglie quali possono essere quelle magari più adatte a chi cerca una vacanza anche un po' più movimentata quali possono essere le soluzioni a livello di strutture ricettive e abbiamo visto che di soluzioni ce ne sono infinite tutto dipende da quelle che sono le vostre priorità così come abbiamo toccato anche l'argomento legato a come arrivare nel posto della mia vacanza che magari può fare la differenza per chi deve fare molti chilometri ok ripeto che possiamo costruire su misura qualunque tipo di richiesta la varietà di offerta di una regione come la Puglia ci consente di accontentare qualunque tipo di viaggiatore e mi faceva piacere fare un piccolo scenno e poi vi lascio visto l'ora a quella che secondo me è una terra conosciuta come una terra bifronte ma pensando al fatto che è veramente una lingua di terra bagnata da due mari tra di loro anche molto diversi ma in realtà spesso quando si parla di una Puglia bifronte si parla di una Puglia superficiale che è quella sotto gli occhi di tutti quindi la Puglia delle spiagge del mare meraviglioso la Puglia dei borghi la Puglia dei castelli dei trulli dei paesaggi e quindi di tutto quello di cui insomma abbiamo chiacchierato e tutta quella Puglia nascosta che è la Puglia di sotto c'è tutta una Puglia forse conosciuta a chi ama andare per anfratti dico io a chi magari ha scoperto facendo delle belle escursioni in barca tutte le grotte e tutti gli anfratti di cui vi raccontavo e che in realtà possono regalare più curiosi anche dei paesaggi assolutamente insoliti parlo delle gravine e di tutto quello che gira intorno a le chiese rupestri e una parte di storia che ci è stata regalata proprio andando a a scavare al di sotto della superficie bene io direi che se non avete domande e se insomma spero di aver soddisfatto al meglio le vostre curiosità vi lascio la vostra serata vi ringrazio tantissimo per aver per aver partecipato e per avermi tenuto compagnia spero di avervi risolto qualche dubbio anche relativamente a quella che può essere una programmazione legata ai prossimi mesi se avete dei dubbi non esitate a contattarci ci sono io ma ci sono tanti consulenti di viaggio Evolution Travel esperti sulla destinazione vi ricordo che continuano comunque le nostre dirette tutti i martedì alle ore 21 e quindi come si dice in gergo stay tuned tenete d'occhio la nostra pagina così saprete quale sarà la prossima diretta chi sarà il consulente di viaggi che vi parlerà della prossima destinazione intanto vi ringrazio vi auguro una buona serata e alla prossima diretta grazie a tutti